Le attuali misure anti-Covid includono la chiusura al pubblico dei musei. Non vi è eccezione per il MUT, il museo della Tonnara di Stintino, ma essere chiusi non equivale a essere fermi. Come a suo tempo anticipato da Canale 12, il MUT, membro dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei, aderisce all'iniziativa Piccoli Musei Narranti, una serie di eventi virtuali che consentono via web di tenere viva l'attenzione sul patrimonio culturale offerto e interessanti spunti di riflessione. Ogni giovedì alle 12, a partire dallo scorso 19 novembre e fino al 28 gennaio 2021, il MUT presenta una serie di videoletture realizzate dal suo staff che possono essere seguite sul sito mutstintino.com, sulla pagina Facebook ufficiale e sul canale YouTube del museo stesso. Ovviamente i filmati già realizzati possono essere visionati in qualunque momento. L'indirizzo linktree.com conduce invece all'elenco fruibile dei lavori pubblicati da tutti i musei nazionali che partecipano alla creazione di questa grande libreria virtuale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!